Intesa fra Governo e Regione Emilia-Romagna per il passante bolognese della 14 per la bretella Campogaliano-Sassuolo. Si è concluso positivamente il vertice a Roma fra il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il Presidente Stefano Bonaccini e il Sindaco di Bologna Virgina Merola. Le parti hanno trovato un accordo sul proseguo dei lavori per il passante autostradale e per la bretella. Semafora ancora rosso invece per la Cispa Dana per la quale al momento non è ancora stata fatta una valutazione. Il rapporto costi-benefici invece darà il via libera alla Campogaliano-Sassuolo confermando il progetto presentato dalla Regione. L'opera sarà quindi autorizzata e potranno aprire i cantieri. Quattro invece le ipotesi in ballo per il passante anche se probabilmente ci si focalizzerà su due soluzioni. La prima, più cara al Governo, prevede il potenziamento della sola tangenziale a tre corsie con corsie di emergenza. La seconda invece, più vicina alle richieste degli enti locali, prevede il potenziamento della 14 a tre corsie perenni con corsie di emergenza e l'utilizzo della terza corsia di marcia sulla tangenziale con piazzole ed extra spazi garantiti da svincoli ravvicinati. Le due ipotesi in ballo permetterebbero una consistente riduzione del consumo di suolo, tra il 35 e il 42% in meno e un minor costo di circa 120 milioni di euro rispetto al progetto precedente del passante che sarebbe costato 715 milioni di euro. Oggi una bella giornata per l'Emilia Romagna. Insieme al sindaco Mero l'abbiamo incontrato il ministro Toninelli, il sottosegretario dell'Orco e sono state riconosciute le ragioni del nostro territorio e la bontà anche dei progetti. Il ministro e il ministero hanno riconosciuto ad esempio che l'analisi costi-benefici che hanno prodotto sulla bretella Campoianso a suolo dà risultati positivi e quindi dopo decenni di chiacchiere e polemiche è finalmente un'opera infrastrutturale che permetterà di collegare il distretto ceramico dove si produce oltre l'80% dell'intera ceramica italiana alla Brennero, quindi all'Europa, abbattere i costi di trasporto ma anche potenziare il collegamento con lo scalo merci e quindi trasferire una parte di carico di merci sulla ferrovia, sul ferro piuttosto che solo sui camion. Dall'altra sul passante di Bologna ci hanno prospettato alcune soluzioni una delle quali in particolare molto convincente perché anche qui accoglie le nostre richieste e istanze cioè che anche l'autostrada venga allargata con anche la corsia di emergenza e poi altri interventi sulla tangenziale, aumentare le mitigazioni in particolare quelle ambientali a difesa del territorio e soprattutto in particolare dei cittadini di diversi quartieri di Bologna come avevano chiesto, sarà convocata il più presto alla conferenza di servizi e credo lì si troverà una soluzione anche qui a un'opera da anni e anni che era stata frutto di polemiche, di contrasti che trovo oggi una ragione. Avevamo detto se si ferma l'Emilia-Romagna si ferma una parte del paese così vince l'Emilia-Romagna e vince il paese.